Stasera chiude a Verona Fiere Fruit and Veg System, ve ne abbiamo parlato già ieri e l'altro ieri, si è chiuso soprattutto stamattina, si è parlato molto di Russia, tra poco capirete perché anche se lo abbiamo già anticipato nel servizio dell'altro ieri e poi vi ricordo ancora rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni vedrete dei servizi approfonditi nelle trasmissioni dedicate, Zolle in maniera particolare su questa rassegna che ha messo insieme a confronto i produttori e comunque i protagonisti del comparto ortofruttivo e quelli della logistica. Ultima giornata oggi a Verona Fiere di Fruit and Veg System 2016, la start-up promossa con AgriFood Consulting che per la prima volta mette a contatto i diversi protagonisti della filiera produttiva ortofrutticola ed il mondo della logistica. La mattinata è stata dedicata alla riapertura del dialogo col mercato russo alla luce della probabile revoca dell'embargo che ha creato notevole danno alle imprese italiane. Le organizzazioni agricole hanno più volte segnalato come l'economia agroalimentare italiana sia stata pesantemente penalizzata dallo stop alle relazioni commerciali con la Russia. Da Fruit and Veg System 2016 è partito un messaggio di speranza. Il mercato dell'est è pronto, è stato detto a riaprire le porte anche se gli esperti hanno avvisato che non sarà tutto come prima. I produttori italiani infatti saranno chiamati a riorganizzare il proprio approccio curando nel dettaglio tutti i segmenti della filiera, prestando attenzione ai temi del trasporto, della logistica, del packaging, delle relazioni, della comunicazione. A Fruit and Veg System Video Calabria ha accompagnato diverse aziende in collaborazione con la testata specializzata Local Genius. Numerosi servizi di approfondimento che abbiamo realizzato e che veicoleremo attraverso la TV classica, la web tv, internet, i social e il cartaceo. Una risposta è in sintonia con le richieste che giungono dai mercati e che offre alle produzioni calabresi di eccellenza, dal limone di rocca imperiale alla patata della Sia, dal bergamotto di Reggio Calabria alle clementine, dal fico dotato alla cipolla rossa ritropea alle filiere del pomodoro, del peperoncino, del goji, delle specialità orticole, un sostegno mediatico qualificato. Nelle prossime settimane illustreremo nel dettaglio questi tre giorni di lavoro a Verona.